Visto che è il suo primo talk, l'applauso, anche se stai provatissimi oggi, avevi fatto un monte di applausi, lo capisco, però un bel applauso a Lorenzo Mattei. Salve, grazie a tutti per l'incoraggiamento. Oggi vi parlerò degli errori da evitare per realizzare campagne Google e Facebook ads efficaci. Partiamo un attimo dall'inizio. Chi sono io? Sono un digital advertising specialist, cioè vi tormento con gli annunci su Google e Facebook finché non comprate dai miei clienti di base. Faccio questo lavoro da 2018, anno in cui mi sono innamorato, e negli ultimi anni ho gestito quasi 2 milioni di budget su Google, Facebook e anche altre piattaforme. Sono un Google partner e appunto questa è la mia prima volta al freelance camp. Allora, cosa vedremo qua? Ho necessariamente dovuto fare una selezione di quelli che sono gli errori più comuni che trovo negli account quando vado a fare audit o parlo con varie persone. Necessariamente perché sennò saremmo stati ore a parlare di questa cosa e quindi ho ristretto. Anche di questi però ci sarebbe da parlare tantissimo. Perché però proprio questi errori? Queste piattaforme stanno semplificando l'accesso e virtualmente chiunque ora è in grado di fare una campagna. Il problema però è che più aumentano le persone, con meno competenza giustamente perché fanno magari altri lavori, più aumenta la probabilità di poter fare errori. Quindi ho fatto questa selezione per cercare di darvi un input o qualche aiuto per la gestione delle campagne. Il primo errore, può sembrare banale, spero che lo sia, è quello di non tracciare le conversioni. Non tracciare le conversioni è fondamentale perché dobbiamo sapere esattamente cosa accade su un sito web una volta che l'utente ha cliccato su un annuncio. Altrimenti noi siamo ciechi, non sappiamo cosa funziona, cosa non funziona, ma anche le piattaforme sono cieche perché sono macchine che lavorano sui dati. Quindi più dati hanno, meglio lavorano. E se voi fate una campagna per un e-commerce, un lead generation, un qualsiasi cosa che va oltre la piattaforma, se la piattaforma non sa cosa accade dopo che un utente clicca su un annuncio, non potrà mai ottimizzare l'inserzione nel modo più corretto. Tracciare le conversioni, cosa significa? Di base, sempre avere sui siti i tag di Google Analytics, il tag di conversione di Google Ads e il Facebook Pixel. Possibilmente installati tramite Tag Manager. Perché? Perché migliori le performance del sito e semplifichi la vita in noi advertiser, che ogni volta dobbiamo fare una modifica al tracciamento, non dobbiamo chiamare il developer. Importante da segnalare è che su un account Google Ads, quando andiamo a fare campagne, è sì importante avere le conversioni di Analytics, ma sarebbe meglio, quasi fondamentale, avere anche le conversioni di Google Ads. Perché, anche se sono della stessa azienda, utilizzano modelli di attribuzione diverse. Quindi, di base, c'è sempre una discrepanza di più o meno il 30% tra le conversioni che registra il tag di Google Ads e quelle che registra Analytics. Quindi abbiamo meno dati da analizzare. In più, utilizzando il tag di Google Ads, possiamo avere molte più funzionalità di conversione. Conversioni offline, conversioni v-true, conversioni avanzate, per tracciare in modo sempre più preciso cosa accade sul sito e che risultati hanno le campagne. Un'altra idea molto interessante per un tracciamento è quella di utilizzare gli UTM. Quando fate un ADV, Google, Facebook, qualsiasi cosa, inserirei dei parametri UTM per poter fare poi un riscontro anche su Analytics del traffico che viene da quel link e ottenere anche altre metriche al di là delle campagne. Altro errore è non far lavorare in sinergia più piattaforme. In questo caso, Google e Facebook, ma vale un po' per tutte. Sono piattaforme, appunto, che lavorano sui dati. Quindi, più dati hanno, meglio lavorano. Se lavorano insieme, possono raggiungere più pubblico, più velocemente. Avere un ADV su Google e Facebook ci consente anche di andare a raggiungere l'utente in vari momenti. Quindi, sia della giornata che del customer journey. Perciò, se un utente fa una ricerca su Google e trova il nostro brand, saremo poi in grado di riprenderlo su Facebook. O viceversa, se un utente vede un ADV su Facebook, ma magari non ci clicca, però è interessato e poi va a ricercare su Google, se non abbiamo campagne attive, potrebbe essere intercettato dal nostro competitor. E non è mai bello, perché abbiamo speso soldi per far guadagnare un altro, poi alla fine. Altro errore è scegliere l'obiettivo sbagliato di campagna. Quando creiamo una campagna, ci chiedono sempre qual è lo scopo o l'obiettivo. Perché? Perché, appunto, essendo macchine che lavorano sui dati, devono sapere loro cosa gli vogliamo far fare. Esempio molto classico. Se abbiamo un e-commerce, raramente andremo a fare campagne per generare traffico. Perché? A noi interessa che ci sia traffico sul sito, ma interessa più che altro che vengano acquisti. Perciò, se la piattaforma sa che deve portare sul sito utenti che lo visitano e basta, farà determinate offerte e cercherà un determinato pubblico. Se invece sa che vogliamo acquisti o aggiunti al carrello o contatti, azioni più importanti, lavora meglio. Perciò è più utile scegliere obiettivi come conversione. Poi, ovviamente, dipende molto da qual è la strategia. Ma, in teoria, ogni campagna deve avere un obiettivo specifico per consentere a noi di capire cosa sta facendo e anche a lei per riuscire a girare al meglio. Cosa importante che causa molti problemi è utilizzare una struttura inefficiente. Ogni account deve essere organizzato secondo una logica. Ogni campagna deve avere un nominativo preciso. L'obiettivo della campagna, di cosa tratta, su quale pubblico va, la tipologia di annunci che utilizza. Perché? Perché utilizzare una struttura efficiente ci semplifica la gestione. Quando apriamo l'account, saremo subito in grado di vedere cosa sta funzionando e cosa no. Ma, cosa ancora più utile, se lavoriamo in team o se abbiamo un cliente che va a vedere gli account e aprirli, anche loro sono in grado di capire perché. Se noi che facciamo l'account sappiamo esattamente cosa fa, gli altri non lo sanno. Perciò è utile capire al volo subito cosa funziona e cosa non funziona. Fa risparmiare tantissimo tempo, sia in gestione, sia anche in fase di audit. Il pubblico corretto. E questo è un errore molto comune, che le persone scelgono molte volte il pubblico sbagliato. Ora, come si trova il pubblico corretto per le campagne? Testando. L'unica opzione è fare test e vedere qual è il pubblico che risponde meglio ai nostri annunci. Abbiamo tantissime opzioni per trovare un pubblico. Banalmente la cosa più comune su Google Ads sono le parole chiave o su Facebook gli interessi. Per questi ultimi è sempre bene intersecare gruppi di interessi per cercare di arrivare a avere un'audience più targettizzata possibile. Ovviamente l'unica è fare test, trovarne il più possibile. E oltre a queste, ci sono degli strumenti molto interessanti su entrambe le piattaforme. Se abbiamo una mola di dati sufficienti, può essere tante azioni sul sito, un elenco clienti, gli iscritti nelle newsletter, possiamo andare a creare pubblici che sono simili alla nostra base. E questo ci consente tramite il machine learning di trovare un pubblico magari al quale non avremmo pensato che magari funziona anche meglio. Ovviamente questi pubblici funzionano meglio, tanto più grande l'audience di partenza. Più l'audience è piccola, meno dati avrà la piattaforma per riuscire a trovare il pubblico migliore. Altro errore è far atterrare gli utenti sulla pagina sbagliata. Molte volte quando vedo campagne di advertising, vedo siti che mi fanno finire sull'home page. Ma questo ha poco senso nella maggior parte dei casi perché le home page sono pagine introduttive, riassuntive, non hanno una mola di informazione tale da soddisfare le persone. Soprattutto se una persona cerca un servizio su Google e voi lo mandate all'home page, questa persona deve andare a trovarsi le informazioni, che magari ci sono anche, però è uno sforzo in più, non le trova subito. Perciò è utile far finire le persone su pagine servizi, pagine prodotti, pagine categoria, se è un e-commerce, o quando non è possibile, perché magari va ristrutturato tutto il sito e non c'è la possibilità anche di fare l'ending page. L'ending page ad hoc per ogni tipo di annuncio, per ogni servizio, a seconda della strategia. Questo cosa ci consente di fare? Da una parte aiuta l'utente, perché trova subito le informazioni delle quali ha bisogno, ma oltre a questo Google vede che gli utenti sono avvantaggiati, trovano quello che cercano, vede una corrispondenza tra quello che l'utente cerca, quello che gli offriamo nell'annuncio e quello che poi trova sul sito. Questo ci porta ad avere un punteggio di qualità più alto anche e virtualmente a pagare meno per un singolo annuncio rispetto ad altri inserzionisti, perché comunque è tutto un sistema d'asta che non si basa solo sull'offerta monetaria, ma anche sull'esperienza e le risposte che diamo agli utenti. Perciò è cruciale scegliere la pagina giusta sul quale farli atterrare. Altro errore è utilizzare sempre le stesse creatività. Quando facciamo advertising rischiamo di incappare nell'ad fatigue, cioè quando gli utenti vedono così spesso i nostri annunci che poi non ne possono più, si annoiano, ci vanno a ignorare e nascondono le inserzioni molte volte. Questo dà segnali negativi ad algoritmo e quindi le campagne che magari performano poi dopo smettono, perché gli utenti non ci sopportano più alla fine. Quindi uno dei modi per superare l'ad fatigue è quello di avere tante creatività e ruotarle il più possibile. Quando non abbiamo tante creatività possiamo anche andare a modificare quelle che abbiamo, ad esempio cambiando i copy, i testi, le cta, cambiando anche banalmente i colori. Può sembrare strano, ma anche gli utenti se vedono la stessa immagine, ma con colori diversi, per loro è nuova. In alternativa, usare formati diversi. Se abbiamo delle immagini, fare un video slideshow, utilizzare caroselli, utilizzare nocidiscovery, display, andare a fare esperienze interattive, tutto quello che ci offrono le piattaforme, che sono veramente tante opzioni, perché così, anche se sono le stesse creatività, le stesse informazioni, vengono presentate in un modo diverso e nuovo all'utente, che può nuovamente interagire. Questo molte volte porta a far tornare campagne performanti. Quando però abbiamo già fatto tutto questo, non possiamo fare altro, un'alternativa che ci resta è quella di cambiare pubblico, perché se abbiamo scelto un pubblico che utilizziamo da tanto tempo, che magari è molto piccolo rispetto al budget, rischiamo di saturarlo molto veloce e quindi l'unica cosa che possiamo fare è andare a cambiarlo e avere un pubblico nuovo. Io ho finito, se avete domande, se no vi ringrazio per l'attenzione. Prego. Sì, sempre interni al sito, certo. No, questo non è detto. Dipende dalle esigenze del cliente, che possono essere sia nel sito, sia non indicizzate nel sito. Però sempre all'interno dello stesso dominio, comunque è tutto, ovviamente. No, generalmente no. È una landing page che vive a sé. Sì, diciamo che generalmente su delle landing page con le quali lavoro puoi andare al sito, ma solo se clicchi sul logo, di solito, se no non hai modo di raggiungere. Ok. Sì. No, 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 no. Perché 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 tu hai detto che dice che non è il programma di pratica e che si ha un mio studente personale, ma mi è capitato a volte non andava a tutti questo condivisione. Quindi tante volte ho eserito per il patente e mi domandavo cioè poi L'importante è che funzioni, quindi se si è installato in un modo o nell'altro è indifferente. Diciamo che per installarlo tramite Tag Manager c'è da lavorare di HTML, creare tag particolari e andare a inserirlo in quel modo. Però è fattibilissimo, ci devi sbattere un po' la testa magari e provare vari template, ci sono un sacco di template anche su Tag Manager per il pixel, quindi provali e trova quello che ti funziona meglio. Grazie mille. Grazie mille.